Ciao, sono Leslie Pario, sono l'autrice del libro La mela del peccato, sono una biologa nutrizionista e life coach. Con questa visualizzazione voglio aiutarti a trovare la tua forma fisica ideale. Puoi ripetere questa visualizzazione ogni mattina quando ti svegli e ogni sera prima di addormentarti. Quello che occorre fare è trovare un luogo tranquillo in cui non avere distrazioni e in cui puoi rilassarti per almeno una decina di minuti. Sei pronto? Bene. Quello che ti serve fare è assumere una posizione comoda in modo che il tuo corpo non diventi una distrazione. Porta ora l'attenzione al tuo respiro e chiudi gli occhi. Inizia a percepire l'aria che entra dalle narici del tuo naso e come un'onda di rilassamento percorre tutto il corpo dalla testa fino alla punta dei piedi. Inspira ed espira profondamente e rilassa ogni parte del tuo corpo e ogni volta che inspiri immagina di riempire ogni cellula del tuo corpo di luce bianca di guarigione e ogni volta che espiri immagina di buttare fuori tutte le ansie, paure, tensioni e preoccupazioni e riempire lo spazio lasciato vuoto con luce bianca. Rilassa il cuoio capelluto, la fronte, la zona intorno agli occhi e intorno alla bocca e tutto il viso completamente. Inspira e riempi di luce bianca il collo e le spalle ed espirando scarica le tensioni che in queste zone si accumulano. Rilassa ora la schiena completamente, il torace completamente, l'addome e gli organi al suo interno e sono irradiati ora da una meravigliosa e leggera la luce bianca di guarigione. E rilassa ora le braccia e le mani e non so se ti stai rendendo conto che via via ti stai sentendo sempre più pesante e rilassato, pesante e rilassato. profondamente rilassa il torace, il bacino, la gamba destra e la gamba sinistra fino alla punta dei piedi profondamente. E da questo stato di profondo rilassamento ti ritrovi in un luogo immerso nella natura, un luogo in cui ti senti e ti vedi completamente in pace. E in questo luogo inizia a visualizzare e percepire una nuova immagine di te, della tua forma fisica ideale. La vedi ancora in lontananza e inizi a camminare a piccoli passi per raggiungerla. forse ti trovi al mare, forse in un prato o forse in montagna, non importa dove sei e non importa se il tragitto per raggiungere la nuova immagine di te è lungo o breve, facile o difficoltoso, perché sai che puoi raggiungerla. E così inizi con fiducia a camminare. E percepisci la sensazione tiepida del sole sulla pelle, l'aria tra i capelli, un profumo inebriante. Ed è così che mentre ti stai avvicinando, la vecchia immagine e percezione di te stesso piano piano si dissolve. E mentre ti giri indietro per salutarla, ti accorgi che stai lasciando andare il peso in eccesso insieme alle tue paure, ai tuoi vecchi schemi mentali disfunzionali che vengono restituiti alla terra. E tu sei al sicuro, perché sai che la nuova forma fisica è proprio lì. E mentre stai camminando verso la tua forma fisica perfetta e ideale, un senso di benessere, vitalità e di energia pervade tutto il tuo corpo. Ti senti bene, inizi a correre senza fatica, spalanchi le braccia e inizi a pronunciare le tue affermazioni positive, che oramai sono diventate parte di te. Io sono magro, io mantengo i miei risultati, io mi sento leggero e in pace. Dimagrire è facile e divertente. Realizzare me stesso mi alleggerisce. Esprimo chi sono e il mio potenziale. La tua pelle è tonica e radiosa, i tuoi muscoli sono scolpiti, gli occhi brillano di felicità e ti senti leggero, in pace, protetto e magro, pieno di energia e vitalità. Il tuo corpo è ora in grado di bruciare i grassi, mentre cammini, mentre dormi, mentre ridi. Ridere ti fa bruciare i grassi. Camminare ti fa bruciare i grassi. E dormire ti fa bruciare i grassi. E tu stai bene nella tua nuova forma fisica ogni giorno di più. E nella tua giornata va tutto bene, gestisci meglio il tuo lavoro, le tue relazioni, ricevi amore e aiuto da parte di tutti. E le tue finanze aumentano di giorno in giorno. Hai sempre tutto quello che ti serve per provvedere alle necessità e ai lussi della tua vita. E così, nei giorni e nei mesi a venire, sei sempre più bello, ricco, amorevole, pieno di amici e capace di scegliere gli alimenti giusti per te naturalmente. e fare attività fisica è un piacere. E ora porta questa sensazione al qui e ora, al tuo corpo. E senti questa sensazione già vera e realizzata. E ripeti, con il potere della mia mente, ho creato il mio corpo ideale. Il mio peso in eccesso si scioglie facilmente e senza sforzo e si trasforma in energia. E io mi concedo il permesso di raggiungere il successo in ogni area della mia vita, ora e sempre. Non è meraviglioso? E sapendo che puoi tornare in questo spazio tutte le volte in cui ne senti il bisogno, semplicemente ascoltando la visualizzazione, inizia a riportare l'attenzione al tuo corpo e alla stanza in cui ti trovi. E prendi un bel respiro profondo ed espira completamente. E prendi un secondo respiro profondo ed espira completamente. e prendi un terzo respiro profondo, trattieni l'aria per qualche istante e porta gli angoli della bocca rivolti verso le orecchie ed espira in un ampio sorriso. E quando te la senti, come i tuoi tempi, riapri gli occhi. Bene, ti chiedo di fare questa visualizzazione ogni giorno per almeno un mese e farmi sapere come va i tuoi risultati, le tue sensazioni, quello che cambia nella tua vita. Sono curiosa, puoi condividere la tua esperienza su Facebook, sulla pagina Alas Lipario o mandarmi un'email alaslipario-gmail.com e puoi condividerla con i tuoi amici, con chi sai che ne può avere bisogno. Farà una grande differenza nella tua vita e nella loro. Un abbraccione. Un abbraccione. Un abbraccione. Un abbraccione. Un abbraccione. Grazie a tutti